Ciao ragazzi, siamo di Street Gorilla, esperti del fitness e oggi in diretta dalla nostra palestra con Stella, perché domenico era troppo brutto, l'abbiamo cambiata, se mi ha messo Stella, finalmente andremo a allenare tutto il corpo, quindi con un bel full body. Stella l'abbiamo vista l'altra volta, in un video gambe e glutei, oggi le facciamo fare un bel full body. Quindi un workout per tutti. Esatto, assolutamente per tutti lo fa lei, ma è per tutti. Comunque sia, Emo, 8 minuti, ogni minuto un esercizio, let's go, si può partire direttamente. Smartphone vicino a voi e andiamo. Primo esercizio, 10 piegamenti, quindi push up. Ci posizioniamo, 3, 2, 1 e via, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 e 10. Ci volevo barare. Ho contato male, scusatemi. Fa niente. Comunque abbiamo 40 secondi di pausa adesso, Stella è stata fortissima, quindi abbiamo un bel po' di tempo di recuperare. Esatto. Prossimo esercizio, abbiamo gambe, quindi lateral squat. Esatto. 12 colpi, quindi da una parte e poi dall'altra. Esatto. Bene, 20 secondi ancora, eh. Ah, ok. Sì, sì. Preparati, ma abbiamo ancora 20 secondi, quindi prendi tutto il fiato che vuoi. Ok. E poi si parte. 10 secondi, dai, 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 eh. Mi raccomando, sono solo 8 minuti di workout oggi. Via! Let's go. Andiamo da una parte e dall'altra. Bene. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora 2, 1 e 12. Bene. 35 secondi di pausa. Qua, sta velocissima. Sa che abbiamo sbagliato il circuito, perché Stella è troppo forte. Non la scanala un po' di più, però magari per voi è difficile, quindi mi raccomando, se è troppo, diminuiti le ripetizioni, se invece è troppo, poco, le aumentate. Come sempre. Adesso abbiamo leg raises, quindi esercizio per gli addominali. Ci sdraiamo a terra e alziamo le gambe a noi fra 5 secondi. Questo è più tosto. Questo è più tosto. 3, 2, 1 e partiamo. 1, bene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai, 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 brava. 8, 9, e 10. Bene. Finito. 33 secondi di pausa. Ok. Come stai? Posto? Bastante. Sei fresca ancora. Ancora freschissima. Dai, dai. Freschissima, Stella. Stiamo allenando bene qua. Sei da una bestia per diventarlo. Perché ovviamente, come ho detto all'inizio Stella, il circuito non è per le donne e né per gli uomini. Qua il metodo Sti Gorilla è per tutti. Esatto. Quindi andiamo tutti quanti noi. 10 secondi. 10 secondi. Poi abbiamo l'arche body. Quindi il superman. Ci sdraiamo a terra. Ci siamo? E partiamo. Andiamo a fare 10 colpi. 2, 3, perfetto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Top 35 secondi di pausa. Questi si sentono. E' un po' più dietro, sono qua, ne ho fondate la telecamera. Poi i nostri follower qua ci... Scusate. Dicono, stiamo a vedere l'esercizio. Bene, 20 secondi di pausa. Com'era? Tosto questo, no? Questo è più tosto. Sì, io che non sono abituata... Questo è un esercizio che in pochi fanno, pochi conoscono, ma questo è un ottimo esercizio. Primo per aprirsi, mobilità, e poi tutta la parte posteriore, quindi lombari, quant'altro, no? Esatto, lavori un sacco di muscoli tutti insieme. Spalle, anche perché... Apriamo. Bene, adesso abbiamo tricep extension. Ci mettiamo a terra e partiamo. Perché qua siamo già in ritardo, siamo già sforato. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora l'ultimo. Bam, 8 alla grande, 35 secondi. Brava Stella, l'esercizio non è facile, quindi ho fatto veramente molto bene. Bene, 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 bene. Adesso abbiamo open, close, squat. Quindi andremo a fare una ripetizione larga e una ripetizione stretta. Così vai a lavorare tutta la catena della gamba, insomma. Ok. Fra 10 secondi. Ci siamo? Vai. 5, 3, 2, 1. Ok. 1, 2, 3. Sto sbagliando tutto. Fai... Lo vuoi con tira? Ho avuto un problema. Vai, vai. Non c'è la cara che non si fa. 4, 5, 6, 7, 8. Stringi un po' di più i piedi. 9 e 10. Ok. Doviamo altri 10. 1, 2, 3, 4. Quattro, questo è un errore di percorso. 5, 6, 7, 8, 9. L'ultimo 10. Bene, bene, bene. Ho semplicemente sbagliato all'inizio. Mi ha dato un po' di confusione. Mi ha recuperato. Ha fatto un altro esercizio prima, ma andava bene anche quello in realtà. Non è che era buon esercizio. Mi ha detto è piuttosto però. Mi ha detto è piuttosto, perché è chiuso, aperto, è chiuso, aperto. Prossimo esercizio. Abbiamo il plank, semplicemente a terra e teniamo 30 secondi. Ok. Via. Posizioniamoci e andiamo a tenere. 30 secondi. Bene. Questo esercizio base, ovviamente del calisthenics, dell'allenamento a corpo libero, esercizio fondamentale perché rinforzerà il vostro corpo. Quindi il vostro corpo sarà molto forte grazie a questo esercizio. E 30 secondi comunque non sono pochi in questo esercizio. Quindi mantieni Stella, continua, continua, bravissima. Ancora. Due secondi. Uno, due, stop. Pausa. Bene. Qua parlando, chiacchierando, scherzando e allenandoci siamo arrivati all'ultimo esercizio, ragazzi. Qui pike push up. 5 colpi. Proviso non ne hai fatto niente, che ti vedo fresca. Esatto. Ne facciamo 7, ne passiamo. 5 vanno benissimo. Vanno benissimo, ragazzi. Dai, dai. Fra 4 secondi. 2, 1, ok. Pike push up, raga, bravi. Ultimo esercizio. Un po' più su. Ok, spingi la testa. Bravo. E spingi verso il dietro. 2, 3, 4, e 5. Bene. Workout finito. Com'è andata? Tosta, ma fattibilissima. Fattibilissimo. E per tutti. Quindi, grazie di essere con noi in questo video. Mi raccomando, vi ricordiamo che noi possiamo seguirvi in maniera personalizzata, oppure in modo facile lo acquistate, ci sono i nostri programmi di allenamento che sono veramente il top, li portate sempre con voi, comodi, sia per donna che per uomo. Quindi, diciamo, non ci sono distinzioni mai con il mento tosti di gorilla. Detto questo, come ne ringraziamo i nostri ragazzi? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo. A un prossimo video! Io, 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 io. Ok. Qualsiasi sia il tuo livello, disciplina, forza, estetica e prestazione. Sì, un vero gorilla. Perché l'obiettivo da noi rimane il risultato. Qualsiasi sia il tuo «fitto»? Questa è il tuo livello, a chi Dominare? Lo l'obiettivo da noi rimane gli altri ideoi assicurati del tuo�me. Chiades all'area anche gli Hemâtiri da noi hitting! Chiades all'Inghilfe.